Un pari per cui tutti avrebbero firmato alla vigilia ma che poi era sfumato nel modo più beffardo. Domenica scorsa il Ravenna aveva dovuto ingoiare un boccone amaro, per meglio dire una mancata vittoria in casa della fanfulla e poi c'era stato anche il match del turno infrasettimanale, insomma un Ravenna che cercava i tre punti e contro il Crema il Ravenna si metteva subito in luce con questa chance costruita su calcio d'angolo, la conclusione deviata, quella effettuata da Capece sul fondo. Il Crema che si vede al 32esimo minuto con la punizione di Recino, pallone però sporcato e bloccato. Andiamo allora a vedere il vantaggio del Ravenna, al quinto minuto del secondo tempo, Marangon che sfrutta la sponda di Guidone sassata sul primo palo e gol del vantaggio come detto per i giallorossi con Marangon sicuramente giocatore dalle grandi capacità tecniche qui abilissimo a buttare il pallone in fondo al sacco. Ci prova allora il Crema con Ricozzi serpentina e piazzato in out e poi di nuovo il Ravenna con questo corner e poi una battuta al volo di Lisi che spara sul fondo. Andiamo allora al 24esimo, il reclamo del Ravenna, il contatto fra Baice e Guidone, tutto regolare per l'arbitro sassano nonostante le proteste del 17. Calcio di punizione qui, davvero brivido per la schiena di Venturini, la battuta di Madiotto, una crema che ci prova ancora Recino, testa sul fondo per lui, mentre invece Ravenna può agire anche di rimessa. Altro cross in questo caso da destra, quello di Lisi, Dorsi impatta male sul pallone. Ci spostiamo verso i minuti conclusivi, svetta su tutti, Recino travolge letteralmente, il difensore non spedisce però il pallone verso lo specchio. L'ultima vera chance al 94esimo, il contropiede di Dorsi, tiro centrale per lui, Ravenna che può così esultare, Ravenna che batte il crema sull'1-0.